salve ragazzi bene ritornati in questo nuovo video oggi come potete vedere siamo in due io siamo in in questo fangame di five night freddy's è un nuovo fangame vabbè penso che lo sappiate che c'è il gioco sono più distratto la cpu che sta segnali e niente su questo gioco ci prenderanno prenderà vaffanculo non so neanche parlare aspetta e niente su questo gioco passare gli fps e su questo gioco sicuramente vabbè dai chi chi allora c'è a ogni notte ci alterniamo che come cazzo si parla l'italiano ecco c'è sì ok va bene va bene ok new game e perché clicca ah ci abbiamo due opzioni jump straight into vabbè che cazzo ne so perché jump straight into it e salta vabbè io ho oltre inglese non so come faccio ad averlo aspetta aspetta presser wow dove sono io ma sono morto il mio corpo e l'alala display la affana lalala io ho visto sembra che sto bene ma mi Debole Mi sento Vuoto Che cazzo Capito? Bene Ok Sesso Pieno Ok allora Allora Ci sanno No no puntali un po' un attimo Ci sanno Bonny Chica E freddi senza faccia Ma Foxy non c'è È pulver Ah pulver No Quanto è bello Tu non sai parola in inglese Non sai parola in inglese Va bene va bene È iniziare prima o notte Prima o notte la fa lui E Tieni Ok Ah che bello Siamo in questo gioco Allora Qual è lo scopo Praticamente da come abbiamo letto Il gioco ci dice che C'è un fantasma Entra in qualsiasi Limatronic E noi lo dobbiamo E noi lo dobbiamo Sgamare È tipo come un Among Us Però a distanza Ok Noi abbiamo tipo un computerino Ecco come adesso lo segna Avremo un computerino Che ci segna Cioè che noi dobbiamo Cioè che noi dobbiamo scegliere L'animatronic E poi vedere se è quello Comunque da come abbiamo letto È che quando entra un È Freddy Ecco C'è quello vabbè Comunque voglio dire Ok Abbiamo letto che Quando un Un'anima E un fantasma Entra dentro un animatronic Ci dovrebbe manifestare qualcosa Tipo Può comparire Può comparire Un'impronta Può comparire Può Avere la Può Può avere la Telecamera dei sfarfallamenti Tipo non come questi Però Vabbè E niente E niente Ecco Ok Che bello Che figo Pone un po' di Eh sì Ok Bonny non è È Chico Chico? Sì E mi rende Anche per me Chica Perché io mi sono Uno sfarfallamento O Chico O Foxy Completata Questa Investigazione Non è completata Che è la bocca Madonna Polberry Is waiting for you Comunque Comunque Non sai cosa Cosa c'è Nell'inquadratura Abbiamo la Santa famiglia Ci sta aiutando E ci sta aiutando Ok Ah quanto è bello Sto gioco È il mio turno Non un new game Eh infatti Continua Benissimo Benissimo Donneddì Martedì Martedì No Tu es De Monde Di tornare Parla Vediamo Ma che No Questo è il tasso Per andare a dire Ma che carini Che mer Allora Tu sei ritornato Come è andata la fine Ci sono altri Sospetti E' un previato Che dice in tutti questi Diabili Ci sono dei sospetti E che Dalla prossima Te provo E' già Benissimo Non mi crashare Ti prego Non crashare Che già No dai Ti prego Che già questo gioco Mi ha fatto Mi ha fatto Perdere 80 anni Di vita Bell'annuncio Però la prima parte Sarà Ma ora Mannaggia Pulver Allora E allora Lo leggiamo E allora Lo leggiamo Ma io leggo Per il personaggio E tu ci leggi Per Pulver Allora Intanto Si trapassano Gli oggetti Che bello Ok Allora Vai Sparo Tu sei Ritornato Qui So Come è andata La prima notte Ah Era come Era come Ciò che io non avessi mai visto Le attività parormali Erano fuori Dalle Cioè erano Fuori dalle aspettative Sì ok Ok Tipo Sono stato Sospettato Dice No Sospetto Ah E lo stesso Fantasma Ha tipo Ha Ha Che significa Cacciare Ah beh Il stesso Fantasma Dovrebbe essere Dovrebbe Cacciare anche questo gioco juniors da anni facendo gli stessi trick aspetta vabbè se c'è un fantasma nel mondo reale a perché non lo fai da solo tu tu da solo hai fatto tutto ok allora facciamo lavorare un po il gioco aspetta ok si vedi che vedi che parlare ok ah che bello quanto è bello notte 2 e allora e già abbiamo abbiamo due tre animatroni 4 ok un fantasma entra e forse credo che sia cica di gioco come cazzo sono ma vediamo non è buono perché ah guarda sei ballon boy è vero è vero perché abbiamo letto che ballon boy può sfalsare tipo la sua stamina ok no può sfalsare allora di qui non c'è nessuno di qui chi abbiamo nessuno di qui nel paret cove nessuno cina c'è il puppet aiuto poppet e ballon boy sì altri allora ci abbiamo tre animatroni tutti sono di dio c'è Foxy Foxy è io vedo un'impronta qui eh no non è Foxy no no che cazzo no no lo schermo lo schermo non è Foxy Foxy non è ma è strano lo vedete se ti ho spiegato c'è che sono tre la fa no no sono quattro lo sai lo sai lo sai la cosa è che Foxy non è dove abbiamo già trovato che cazzo stanno gli altri allora stanno alcune allora io vedo cica che non è mai in una di cui non è in questa posizione reddy non è messo di inquadrati vediamo povere bonnie bonnie ma che cazzo ma che cazzo non l'ho mai visto buttano vai vai ma che cazzo no no funziona il coso vedi qua questo si ok va bene va bene ma che cazzo perché ok ah benissimo iniziamo eh guardiamo subito Balloon Boy è vero è vero Balloon Boy Balloon Boy no Balloon Boy è ancora niente ok mi ricordo la notte so capiti due volte Balloon Boy e una pop ma vediamo cica cica non è allora non c'è quella centrale tra foxy e freddy ed ecco freddy sai che semmo è una puppet perchè tutti sono a posto vabbè perchè proviamo con la puppet ok no la puppet no no perchè la puppet sta andando troppo in giro di solito dove stai in buon camera e basta proviamo la puppet cazzo porco due chiamamolo chiamamolo si perchè in questo gioco ci tocca riparare gli animali ma io credo che sia freddy eh perchè? non lo so io io da come l'ho visto guardano quella centro quella centro eh questo e foxy e foxy semmai lui sai che l'ho perso c'era la mano c'era la mano era io sapevo c'era qualcuno con lui tu devi guardare sempre tutta la camera eh poi mi hanno perso guarda quell'altro quanto era stamina è bonnie è bonnie chiamamoni è freddy 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 sicuro te farei eh si eh niente eh lo sai perchè? perchè tu devi guardare sempre quando gli viene in pronta devi guardare tutte le telecamere e poi puntare chi era perchè foxy abbiamo sempre visto in giro non era mai invece freddy non l'abbiamo mai visto niente ma provi comunque 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 dici che hai presente lo scheletro che compare dopo un po' che vedi l'animaronics si ecco di lì come adesso ho spiegato che potrebbe anche tipo muoversi infatti ho visto freddy che che c'aveva sta cosa ok ok intanto eh tipo questo si si proprio questa cosa ok ok è compasso perché si accrema anche la la visuale ah ti ricordo che ci sta anche la cosa che si muove da solo la cam è quella persona si ma un po' controlla palomboy no no non so perché sfarfallava eh no no sai che freddy o al freddy e puppets secondo me perché ha fatto degli effetti statici sulla telecamera ah bonnie è qui ma io bonnie non l'ho mai visto così io l'ho visto sempre così in questa posizione ma mai così io provo provo su si a me pare papet papet ma non tocca a farmi queste cose perché erano qua io vedevo gli effetti statici sotto le camoni ho pensato chica tutti abbiamo visto tutti io e sui figli cioè erano tutti tre tutti abbiamo perso che bello ma non è possibile l'ha fatto l'abbiamo fatto chica oh tutti erano tra me lei lei non faceva nessun rumore incredibile ah vediamo quello che dice su chica che cazzo significa chiamare il non ricercato la persona non ricercata a chiamare la persona ah no no ok ci ha dato un aiuto perché ha detto di chiamare quelli non catturati per ripararli ok vabbè ho avuto come è insomma allora gxt gxt ok già sono allora già sta esplodendo questo ok vediamo ah freddy se ne è andato via subito ma sai che secondo me è lui perché è proprio ok vediamo freddy vedi vedi ciao oh vediamoci freddy dove cazzo eccolo sta lì no quello è buono Anna è qui no è compasso Foxy Anna intanto vediamo Balloon Boy sono più amico i loro dai io proverei freddy freddy eh ma la puppet è tuo cazzo la puppet non sta a far rumori eh la puppet ah no è quello sta qui però finiamo la puppet fai la puppet per favore ho questo dubbio si 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 è che lo sta a far troppo poco il rumore chiamala ah freddy freddy sono a sgarrarmi sono a fare troppi tentativi a vuoto sono a fare troppi tentativi a vuoto è che mi sorge il sospetto che è sempre Bonnie è realtà è realtà la puppet è una cica tanto vota su questo vota su Bonnie porco due è una cica ma cica ma da cazzo è sta cica è l'impronta poi l'ho lasciata uno è buono è buono è buono Foxy sta dando un segnalo è freddy è cazzo se è freddy non è freddy allora perché c'era quel segnalo questo perché è freddy è freddy è Foxy sai perché non compare n'è un'ora n'è da nessuna parte è buono io lo sapevo erano sicuro mi stavo spostato dai camera questo genio adesso basta è bello che torino non è io bo chiamali subito questi vabbè questo boncini c'era anche Foxy da riparare no che poi questo questo si sto boncini c'è non c'è ma è una soluzione che era così semplice questa era impossibile è freddy un'altra volta è freddy un'altra volta e guarda ce l'ha ce l'ha lasciata l'impronta Foxy Foxy è incredibile non si capisce forse la brava io